eccoci buongiorno a tutti datemi ancora un secondo così forse riusciamo andare anche su instagram forse vediamo ok ci siamo anche su instagram credo almeno allora buongiorno bentornati allora siamo collegati con il canale youtube naturalmente che è il canale principale insomma che meglio veicola soprattutto la totalità dei miei contenuti siamo anche su facebook e siamo anche su instagram buongiorno mary buongiorno roberto e buongiorno flavio su instagram avviso coloro che sono connessi da instagram che non vedo i messaggi quindi se me li mandate mi fa piacere ma anche se fossero pieni insulti o di complimenti non avrei la possibilità di vederlo perché il software di streaming non è ancora aggiornato permette di trasmettere tramite instagram ma non ancora di vedere i commenti mentre invece vedo i commenti per esempio del caro angelo ciao angelo che appena che appena scritto da facebook allora un paio un paio di novità su cui su cui vi aggiorno la prima è un ringraziamento che devo fare buonasera mauri buonasera il primo è un ringraziamento che devo fare professore aldo giannuli che non sapevo essere tra tra i miei tra gli aficionados del mio canale cosa che mi ha fatto molto piacere professor giannuli per chi non dovesse saperlo è uno storico di una certa importanza diverse volte lo avrete visto probabilmente anche in televisione spesso è ospite alla sette sono in varie varie trasmissioni ed è uno storico in cui condivido una strana una strana concomitanza di interessi nel senso nel senso che vi svelo una cosa adesso j s non può seguire la live la vedrà dopo non c'è nessun problema buonasera lorenzo allora io a parte la musica ho una grande mediamente mi piace molto la storia sono sempre stato un grande appassionato di storia però al di là di questo ho proprio come dire un un focus particolare della mia ricerca storica su la storia della comunità organizzata in particolare in italia e ne abbiamo perché sulla storia che mi ha organizzato ma ne abbiamo abbiamo insegnato tutto il mondo come se fa la comunità organizzata e ho anche molti interessi sulla storia del terrorismo e delle versioni di tutti i colori è rossa nera gialla blu non ne faccio un discorso ideologico ne faccio un discorso di appunto di di analisi e di interesse storico il professor Giannulli è particolarmente particolarmente ferrato in questi in questi argomenti insomma è anche per questo che io spesso lo seguo sul suo canale youtube che se siete appassionati di storia vi invito assolutamente a seguire trovate Aldo Giannulli dove dove nel corso delle sue a volte su delle dirette principalmente parla e approfondisce in maniera molto ben fatta molto intelligente soprattutto molto competente più di tutto vari argomenti legati anche all'attualità che stiamo vivendo in questi giorni la Russia Israele insomma e volendo e volendo ce n'è di che ce n'è di che parlare per cui insomma un ringraziamento dal professore e vi invito assolutamente ad andarlo ad andare a seguire il suo canale se vi interessa la storia e in particolare riferimento al a quello che ci accade intorno in questi in questi giorni in questi in questi anni oltre a questo vi faccio una piccola scusate non mi sono ancora ripreso dal raffreddore ma è una settimana che me lo porto dietro vi faccio una piccola anticipazione voi sapete che generalmente io faccio due video la settimana il martedì alle 18 e il venerdì alle 17 questa è come dire la programmazione la programmazione normale che a volte subisce delle piccole varie delle piccole variazioni per esempio quando faccio la live al sabato magari non faccio il video del martedì scusate del venerdì a volte a volte invece lo faccio lo stesso in particolare siccome martedì sera vado in scala sentire la prima di Cavaliere pagliacci che sono molto molto curioso di ascoltare perché c'è un ottimo cast un direttore che io conosco dei tempi del conservatorio e che non vedo non vedo dirigere disanti dal adesso ve lo dico dal 97 lo vedo a dirigere quindi presumo che magari troverò anche delle differenze però era era un ottimo musicista anche tempi del conservatorio e quindi sono sono sicuro che lo sarà ancora a maggior regione dopo passati quasi trent'anni per cui martedì sera vado la prima scala e magari ci incontriamo lì con qualcuno che soltanto non sarò in loggione sarò nei palchi perché in loggione non c'era posto sono i palchi e quindi insomma comunque sarò in zona se qualcuno di voi alla prima della scala magari mi mandi un messaggio privato che ci incontriamo scambiamo due chiacchiere come è successo l'altra volta anche con altri che erano presenti che quando poi erano presenti quando poi ho fatto il video della recensione della dello spettacolo del del guillaume tell mi hanno scritto dopo a ma ti ho visto ma non avevo capito sì pensavo che fossi tu però non ero sicuro insomma quindi magari ci incontriamo e scambiamo e e e e cambiamo due due parole vedo già un po un po di domande ma ma prima di andare di passare domande voglio innanzitutto parlarvi di un paio di argomenti poi parlare dell'argomento di cui ho trattato oggi e poi e poi andiamo alle domande qualora qualora vieni sino se no una quantità di roba raccontarvi che siamo comunque sempre molto comodi allora la prima cosa che ho da dirvi è una questione di metodo io credo che l'abbiate capito non sono come dire non sono di quelli che che fa delle proprie certezze e delle proprie opinioni il grimaldello per scardinare chissà cosa e tantomeno ne faccio un qualcosa di forzato per convincere gli altri delle mie opinioni ma è proprio la questa cosa proprio a parte che chi mi conosce sa che non fa parte del mio carattere ma proprio non mi interessa non mi interessa non mi interessa perché non è con questo scopo che ho aperto il mio canale youtube il mio canale youtube è per è per condividere con voi una serie di nozioni una serie di esperienze in particolare quelle legate agli spettacoli da vivo e una serie di altre di altre cose legate principalmente all'unico argomento di cui sapete io parli poi se volete un domani vi parlo anche delle versioni di prima linea o delle brigate rosse ma insomma diciamo che il focus del mio canale è un altro e cerco di continuare a mantenere a mantenere questo focus e poi magari domani ci espanderemo e parleremo della conquista dello spazio vabbè perché dicevo una questione di metodo quindi con la premessa importante che io non ho intenzione di convincere nessuno un giorno claudio di cominciare nessuno delle mie opinioni mi succede mi succede una cosa un po strana su certi video cioè che qualcuno magari mi fa una lunga recensione del video e cosa che mi fa solo piacere evidentemente però molte volte sta a trovare il pelo nell'uovo in una maniera che non mi piace e mi spiego meglio Innanzitutto un discorso commenti io faccio il possibile per leggere tutti i commenti ma non sono fisicamente in grado di seguirli tutti perché fate conto che ricevo dai 150 ai 200 commenti al giorno 200 alle giornate in cui siete in particolare forma cerco di leggerli tutti non riesco a leggerli tutti ma cerco di leggerli tutti molti mimimi mi scappano ma soprattutto non posso fisicamente lo capite insomma che anche se dedicassi un minuto a rispondere a ciascuno e in un minuto non si può certo dare una risposta granché articolata e granché e granché soddisfacente e avrei bisogno di 200 minuti al giorno quindi di di tre ore e passa solo per rispondere ai commenti e come immaginate è un tempo che non ho ripeto e se valutassimo un minuto di risposta a commento che che non è un minuto evidentemente buongiorno francesco buongiorno a tutti per cui a me va benissimo che qualcuno non condivida a volte tutto e a volte una parte quello che scrivo quando c'è il tutto non c'è nessun tipo di problema perché voi l'avete visto io non cancello nessun commento recentemente c'è stato un piccolo sconto con un utente che diceva di aver scritto un commento che a me non risultava diceva fondamentalmente che l'avevo cancellato io io non cancello commenti semmai e youtube a volte che cancelli commenti perché youtube secondo l'algoritmo di cui io io non solo io ma nessuno è come dire perfettamente a conoscenza ha delle parole chiave chiaro se c'è una parolaccia magari la ritiene appropriata anche mediamente postare dei link di altri video è una cosa che insospettisce l'algoritmo quindi a volte alcuni commenti vengono bloccati ma non dal sottoscritto io ci sono tanti diversi forse tanti una serie cospicua di insulti che ricevo e che resteranno lì a imperitura memoria e infami eterne diceva si diceva da qualche parte perché sono sempre convinto che l'insulto come dire qualifichi chi lo fa non non chi lo riceve io non ho nessun tipo di problema e avendo un ego abbastanza abbastanza sviluppato non è certo un insulto mandato mi dà oltretutto un anonimo che non si firma che non so chi è che dovrebbe farmi perdere il sonno insomma quando quando dormo poco perché perché lavoro tanto sono normalmente non ho problemi di sonno però a proposito di metodo se voi andate a vedere sul su uno qualunque dei miei video troverete troverete una serie di cose che io metto sotto i commenti c'è una serie di richieste che faccio ok queste richieste sono innanzitutto rispondete cioè scrivete commenti educati e vi risponderò in altrettanta maniera poi dico se avete voglia di litigare non fatelo sul mio canale andate a farlo altrove perché a volte mi succede anche è successo diverse volte che ci siano delle buongiorno valeria che ci siano delle diatribe non che hanno a che fare con il sottoscritto ma che magari partono da un qualcosa che ho detto e due cominciano a scannarsi o a insultarsi senza tirarmi in ballo perché non sono d'accordo su qualcosa ecco questa cosa qui a me non piace vi prego ogni opinione contraria e gradita in primis quelle che sono contrarie a quello che dico io purché sia educata e circostanziata probabilmente cioè il gentleman che mi ha scritto che di una 80 a 90 volte ignorante 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 gli faccio i complimenti per la sua dialettica e la sua profonda capacità di di analizzare e di far capire gli altri proprio pensiero ma non mi serve a niente c'è non c'è cosa faccio se voi chiuderò il canale youtube questo canale scritto 80 volte ignorante e lì è trovati o non cancello però per la terza per la terza ragione per la terza regola commesso nei nei nelle regole del dei commenti l'insulto è il modo migliore per per cui se volete essere ignorati perché guardate che poi un giorno parleremo anche degli ether ma oggi non voglio andare troppo troppo lungo però molte persone fanno degli attacchi assolutamente pretestuosi insomma dopo di che e torniamo e torniamo e torniamo al punto di partenza su alcuni video cosa succede che c'è una persona che scrive una lunga recensione e e se la recensione lunga vuol dire che il video è stato guardato ascoltato e in massima parte anche condiviso dopo di che dice sono ancora su tutto non su questa cosa qui e su quel minimo aspetto mi voglio dire mi attacca per amore del cielo però insomma mi critica fortemente io ribadisco accetto qualunque opinione circostanziata mi venga data però io non si può nascondere la testa sotto la sabbia cioè a dire se parlando di un personaggio per non far nomi toscanini viene fuori un aspetto del suo carattere che oltretutto nell'arco dei 36 minuti del video io voglio di parlarne per 20 secondi o giù di lì quella cosa fa parte del diritto e del dovere di cronaca da parte di chi fa un video del genere non possiamo dire estremezzo adesso ovviamente insomma è un iperbole non possiamo dire a quel lì quando non violentava le ragazzine era una bravissima persona sì nel 99 per cento era una bravissima persona magari anche un grande artista non stiamo parlando di toscanini è un esempio sto buttando un iperbole per mor di dio lungi da me di una roba del genere sto estremizzando faccio un esempio se parlo di qualcuno che fa delle cose turpi nell'1 per cento della sua vita non è che perché il 99 per cento per l'altra vita paga le tasse e butta via la spazzatura faccio una differenziata non possono non posso parlare o non dovrei parlare del fatto che lui per cento la sua vita fa delle cose turpi ecco questo fa parte fa parte del petto del diritto di cronaca e del dovere di cronaca del dovere di obiettività insomma dopodiché dopo di che se invece qualcun altro mi ha scritto 36 minuti video di toscania è troppo lungo troppo lungo e va bene allora parte che se non so se lo sapete ma su youtube c'è la possibilità di vedere il video in due per per cui il video 36 minuti ve lo vedete in 18 minuti se se ritenete che sia un buono una buona maniera di fruire dei contenuti che hanno la pretesa non dico di essere intelligenti nei colti ma di essere dei contenuti un po interessanti un po con un minimo di 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 peso un minimo di valore intrinseco per cui potete fare questa cosa se no forse questa cosa anche tanti non la sanno sotto tutti i video sotto le live è più difficile a volte lo faccio anche sotto le live ma è oggettivamente e organizzativamente più difficile se no sotto tutti i video c'è l'indice per cui nei video toscanini c'è introduzione al tot minuto quindi cliccate e vedete l'introduzione vita infanzia di toscanini la recensione del video questo ci sono 456 capitoli per cui se 36 minuti vi sembra uno sforzo eccessivo buongiorno davide 36 minuti mi sembra uno sforzo eccessivo da dedicare al mio canale a potete trovare dei canali magari dove la stessa cosa viene raccontata in maniera più succinta più 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 concisa però ci sono anche i capitoli per cui potete semplicemente guardare la cosa che vi interessa allora argomento argomento di oggi il moderno moderno classico più moderno uguale punto di domanda sto dicendo che un'equazione ma in realtà qualche matematico sentisse che un'equazione potrebbe giustamente a buon diritto tirami le orecchie allora io ho appurato che grazie Enrico scrive che il video su toscanini è splendido grazie mille Enrico ho appurato che la maggior parte di voi che avete voi sapete io so tutto di voi nel senso che youtube fornisce a chi fa contenuti su questa piattaforma una serie molto approfondita di dati su chi guarda ovviamente allora il vostro nome esce solo se voi autorizzate che ci sia anche la vostra iscrizione pubblica solo se utilizzate quindi se quando vi siete iscritti a youtube avete autorizzato di altrimenti in molte volte c'è un nickname oppure un user 848 slash slash che sono quelli che da in automatico youtube quindi si può lavorare su youtube anche nell'anonimato però quindi non i nomi delle singole persone che non so dove abitate e quindi anche se mi insultate tranquilli che non mi troverò a cercare sotto casa con un clic in mano però della tipologia della gente che segue il mio canale ormai so tutto cioè so il genere so l'età cioè diviso proprio il 3 per cento dei 18 ai 21 anni e quindi ho un pubblico molto molto ampio o uno 0 1 per cento dai dai 16 18 però ci sta insomma nel senso questo non credo che sia un canale che i teenager per cui in teenager si strappino i capelli per vedere è chiaro che mediamente il mio pubblico è un pubblico mediamente adulto però in questa come dire in questa tipologia di pubblico adulto c'è un range stratosferico che va dai 18 agli 80 e più è notato che c'è una una cosa che accomuna voglio dire tutti evidentemente ma buona parte di questo pubblico adulto in questo range così così ampio cioè che mediamente è un pubblico abbastanza tradizionalista e questi questa cosa me ne sono reso conto quando magari parlo in maniera un po' infervorata di qualche regia strampalata che non mi è piaciuta me ne soccolo poi dai commenti dalle cose dei messaggi dalle mail insomma da tante da tante cose per cui quando si parla di moderno più classico io so che al mio pubblico c'è un alert è una piccola luce rossa è un piccolo segnale acustico che risuonano nel mio ascoltatore che non è favorevolissimo questa commistione allora cosa vuol dire moderno o mio classico più moderno vuol dire non sono oggi non parliamo di regia abbiamo parlato abbastanza poi sono curioso di vedere questa regia di cavalleri e pagliacci mercoledì ne parleremo buongiorno ciopanni e buongiorno claudio quindi non parlo non parlo delle regie parlo del fatto che la musica classica dove per musica classica si intende non tanto quella che va dalla fine settecento e all'inizio romanticismo ma proprio la musica cosiddetta la musica occidentale colta chiamiamola così quindi quella che va che so da monteverdi a stravinsky indicativamente ravelle non c'è una fine precisa sia fatta con buongiorno andrea sia fatta con dei criteri dei criteri di tradizionalità e va benissimo perché non si usa una chitarra elettrica quando cioè non credo che ci saranno chitarre elettriche ma sul palco magari potrebbero anche esserci però sono sicuro che non ci saranno chitarre elettriche in buca a questa produzione di cavalleria pagliacci perché le chitarre elettriche non sono previste in organico molto semplice e quindi tante volte succede che ci sia però che noi ci rigidiamo su su certi contenuti in realtà la commistione tra moderno e classico c'è da quando esiste il moderno cioè voi considerate che le prime volte che si è provato a mischiare l'orchestra con delle chitarre elettriche stiamo parlando di dopo la seconda guerra mondiale insomma i primissimi anni cinquanta i primi esperimenti e poi hanno portato anche a tutta una serie di spettacoli di musical in particolare come Jesus Christ Superstar in cui le due ne ho parlato lungamente non 36 minuti però anche con un video abbastanza lungo in un video in un video apposito però certe cose ci irrigidiscono immotivatamente perché perché dico sempre perché mozart nelle prime sinfonie non usava i clarinetti perché non li avevano ancora inventati quando hanno inventati i clarinetti mozart ha usato i clarinetti se la chitarra elettrica invece che negli anni 30 del secolo scorso indicativamente fosse stata inventata nella seconda metà del settecento probabilmente mozart avrebbe usato la chitarra elettrica probabilmente dobbiamo quindi fare una piccola 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 analisi di noi stessi e dire ma non è che in certi casi ci irrigidiamo quando vediamo un qualcosa di moderno abbinato al classico perché ci sposta gli equilibri e ci sposta le certezze che abbiamo e che vi invito a riflettere a riflettere su questa su questa cosa e a nel complesso essere di mente un po più aperta dopodiché benvenga una una esecuzione della musica classica ripeto classica nel senso più ampio del termine non riflettere periodo classico necessariamente benvenga come dire una visione rispettosa rispettosa però un domani credo che farò anche un video su che cosa sono le fonti in musica classica su che cosa è il ruolo della filologia in realtà ce l'ho è un video che ho in programma da da tanto tanto tempo ma non ho ancora avuto il tempo di di realizzarlo poi sto ancora raccogliendo le idee perché molti video molte volte sono di video che faccio che faccio di getto mediamente soprattutto se magari mi viene richiesto un determinato determinato argomento e ce l'ho pronto ce l'ho fresco allora dai pronti via registro e nel corso di un di qualche diciamo di una giornata di mezza giornata una giornata il video passa dal niente a esserci altri video hanno bisogno di una elaborazione più lunga o di una ricerca più lunga per fare il video su toscanini ad esempio mi sono andato a rileggere una biografia di toscanini che avevo letto tanti 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 anni fa perché uno spera sempre di non dire delle cavolate o quantomeno le cose almeno storicamente inesatte perché attenzione una cosa sull'inesattezza dobbiamo fare un piccolo una piccola parentesi perché molte volte io leggo dei commenti che dicono a Beethoven a Beethoven faceva schifo questa cosa e tu come lo sai allora può darsi che ci sia una lettera in cui Beethoven ha scritto suo amico Julius caro Julius questa cosa mi fa schifo dopo a cui noi disumiamo che questa cosa mi facesse schifo però attenzione che anche questo approccio è semplicistico perché Beethoven può aver scritto quella cosa lì in quel momento per una determinata ragione può darsi che l'abbia scritto perché veramente quella cosa gli ha sempre fatto schifo da quando ha avuto tale ragione fino a quando è morto a 57 anni ma può darsi che fosse arrabbiato per quella situazione in quel momento magari magari due giorni dopo gli è passata per cui non confondiamo appunto la parte storica quindi quando molte volte nei commenti vedo delle posizioni un po' troppo rigide di cano questa cosa il tizio assolutamente non l'accettava parliamone cioè discutiamone ci mancherebbe altra cosa è un errore storico su un fatto quindi non su un'opinione non su un gradimento non su un qualcosa ma su un fatto ok questo si può capitare anche a me evidentemente di dire anche una cosa storicamente inesatta però mediamente mi documento quindi quindi se su toscanini ho sbagliato una tal cosa è colpa mia che non ho approfondito quell'argomento ma mediamente mediamente giusto francesco filati leggo adesso il tuo commento adesso tra un po passiamo passiamo un po a un po di domande un po di commenti se morricone la chitarra elettica in western certo arriveremo arriveremo anche a quello quindi dicevo bisogna cioè chi è da questa parte dello schermo ha il dovere etico anche perché poi ne va dalla propria credibilità di non dire delle cavolate nell'ambito del fatto che siamo esseri umani e possiamo anche sbagliare però dobbiamo stare attenti quando tramutiamo una nostra opinione in un fatto io su queste cose quando infatti quando parlo di cose che riguardano non un fatto storico ma quello che io ho creduto di capire di quel fatto storico applicato a quel personaggio faccio mille disclaimere dico secondo me la mia impressione è che l'opinione che mi sono formato dice che e dico sempre però non prendetele come oro colato è la mia opinione che può anche essere sbagliata dal punto di vista che magari quella persona o quell'artista non la pensava veramente così o la pensavo così ma in una fase transitoria della sua vita e prima o dopo la pensava in maniera diversa oppure oppure può essere appunto anche un errore perché succedono anche gli errori ma mediamente cerco di starci un po un po attento allora prima di passare vedo che già mamma mia sono già tanti tanti interventi vediamo un po vado veramente sono già tantissimi si nuovo location si nuovo location in realtà questa è una vecchia location caro roberto si si ma ogni tanto ogni tanto cambio questa è più è più comoda per una serie di ragioni anche allora questo è interessante non riguarda me dice tuo figlio ascolta musica classica o lirica cerchi di passargli la passione che nel tuo caso è anche il lavoro in che modo gli trasmetti l'amore verso questo tipo di musica allora mio figlio ha studiato violino sette anni adesso ne ha dodici e mezzo ne farà tredici tra sei mesi circa ha studiato violino per sette anni è in dubbio che avendo iniziato a suonare che aveva quattro anni quattro anni e qualcosa non possa essere stata una sua scelta ovviamente è stato una mia mia di mia moglie insomma un indirizzo che gli abbiamo che gli abbiamo dato per cui alla domanda se la suona la risposta è sì se l'ascolta no se no c'è molte volte viene andiamo a teatro insieme quindi vede anche opere interi poi visto mille volte dirigere le mie insomma quelle che dirigevo io insomma quindi è stato tantissimo al teatro in particolare seguire più l'opera che la sinfonica però devo dire che se mio figlio a dodici anni passasse le giornate ascoltando ma non l'esco è un pochino mi preoccuperei un pochino mi preoccuperei perché credo che sia che sia anche giusto che ogni età abbia dei propri svaghi i propri interessi i propri miti i propri gusti e anche se io sia a dodici anni mi ammazzavo di musica di musica classica da molto prima in realtà però fondamentalmente credo che sia normale giusto il non farlo in questa età anche perché poi comunque l'opera parla di una serie di dinamiche l'opera lirica in generale parla di una serie di dinamiche di passioni una serie di rapporti psicologici fra le persone che che se non sei adulto difficilmente puoi apprezzare in maniera concreta e approfondita perché ovviamente si parla anche di amore di tante cose insomma che ovviamente richiedono il fatto che se in quale situazione ti sei trovato sai di che cavolo sta parlando e perché reagisce così altrimenti è come ti mancano dei pezzi e non capisci perché la gente in nome dell'amore o in nome della politica o in nome di altre cose fa delle azioni estremamente turpi nell'opera lirica come nella vita reale perché poi insomma come dice il prologo di Pagliacci lo spettacolo e la vita sono la stessa cosa fondamentalmente Stefano non ci sarà a Cavalleria ma speriamo di prenderci dopo Masca non è vicinissimo ma allora sempre Lorenzo allora penso che sono stato a Lugano pochi giorni fa perché mi hanno invitato una mia ex compagna di conservatorio mi ha invitato a tenere un giorno una giornata di una specie di masterclass molto veloce insomma fatta nel corso di mezza mattinata a dei ragazzi sulla musica da film per cui ho raccontato questi ragazzi cosa fa fondamentalmente un compositore di musica da film gli ho fatto vedere degli esempi che io spesso tengo nelle mie masterclass in cui faccio vedere una scena senza la musica quella scena con la musica quella scena con la musica sbagliata insomma c'è una serie di esperimenti per far capire l'importanza della musica in un film a questi ragazzi che poi mi hanno fatto una serie di domande anche una molto giusta tra cui un ragazzino ma anche abbastanza piccolo che mi ha detto ma il concetto è se adesso c'è l'intelligenza artificiale che scrive qui la musica il concetto era perché non siete tutti a spasso voi compositori e io gli ho risposto in buona parte andremo tutti a spasso però tra l'altro sull'intelligenza artificiale sto preparando un video specifico sull'intelligenza artificiale applicata al cinema ma anche applicata a musica in generale perché guardate vi do questa piccola pillola poi entro lo sto preparando se riesco lo registro martedì e insomma entro fine mese sarà sicuramente online perché è un argomento a cui sono molto attaccato che mi interessa molto paradossalmente l'intelligenza artificiale ha più possibilità di scrivere una sinfonia nello stile di Haydn che è una canzone pop di successo vi sembra strano? non deve sembrarvi strano però adesso non è che posso spoilerare tutto vi ho dato questa piccola pillola andiamo avanti o da Vienna eccolo là vedete ci vedono anche dall'estero bellissima location potrebbe partecipare a un talk politico su Ray 3 è che non so cosa avrei da dire al talk politico caro Francesco temo poco di ben poco di interessanza magari facesse un talk musicale magari magari allora andiamo avanti è giusto ogni che chiede essere circostanziata altrimenti non vale nulla perché anche io posso gridare insulti a chiunque no no sì giustamente l'avverbio parzialmente è molto giusto Mauri non mi destabilizza più di tanto però come dire se ti invito a cena a casa mia sarebbe buona norma che tu non mi rompessi i bicchieri ecco poi se succede che lo rompi pazienza insomma ecco però se lo butti per terra volutamente ecco la cosa non mi piace insomma ecco non so se non so se il concetto se il concetto è chiaro dopodiché come era non ti curare di loro ma guarda e passa ecco faccio esattamente quello che faccio io e questo è il carini figurati quando parlerà di muti allora su muti ormai me l'avete chiesto talmente in tanti che ho messo in ho messo assolutamente in conto un video non l'ho non ho ancora focalizzato quindi non è però è imminente ecco sicuramente credo forse entro il mese prossimo insomma perché me l'avete chiesto veramente talmente in tanti che che dovrò che dovrò cedere spero che venga proposto uno simile anche per altri attori sì sì caro Enrico sì insomma ho già fatto uno su Abado poi ci sono anche quelli ce ne sono alcuni in particolare uno su Sava e uno su Cliber che però sono solo sul canale degli abbonati insomma però insomma ne farò sicuramente tanti altri aspetta la cavalleria la recensione di cavalleria pagliacci mercoledì mattina mercoledì mattina la faccio quindi sarà online boh tarda mattinata alle 11 e mezzogiorno qualcosa del genere oh la commissione tra moderno e classico c'è sempre stata basti pensare a Bach suonato con un pianoforte a coda l'uso della celeste appena inventato schiacciano C bravo Lorenzo molto giusto perché in effetti allora non dovremmo suonare Bach non solo col pianoforte a coda non dovremmo suonare Bach col pianoforte non dovremmo suonare i brani di Luto con la chitarra e quindi cioè attenzione che nel momento in cui noi e ti ringrazio Lorenzo per avermi fatto questo lancio nel momento in cui noi pensiamo che le due cose siano vasi non comunicanti e quindi ci rigidiamo poi non ci rendiamo conto che questa cosa mette in crisi una serie di nostre abitudini da cui per esempio suonare Bach su pianoforte a coda ma anche un normalissimo verticale insomma è una cosa storicamente dire inesatta è un eufemismo è una cosa storicamente sbagliata musicamente filologicamente sbagliato oppure che facciamo smettiamo di suonare di suonare Bach su pianoforte e poi approfondiamo più avanti ecco Lorenzo oggi è attivo il problema è che quando il moderno fa pugni col classico quando viene introdotto a forza giusto e pronto la tradizione per far discutere per disturbare sì questa cosa è chiaro che la vediamo in particolare nelle regie però e sono io il primo a dirvi che se per caso domani vedendo uno spettacolo d'opera ci vedessi dentro una chitarra elettrica o una batteria sarei io il primo a dire ma che cavolo hanno fatto però questo a livello allora secondo me dobbiamo distinguere il piano di capire che cosa è un'opera un'opera in generale un'opera artistica e il piano di capire come dobbiamo relazionarci ad essa cioè a dire la musica per definizione è un'arte è un'arte non è un linguaggio la musica ricordatevi che la musica non è un linguaggio è una forma espressiva ma non è un linguaggio se volete poi approfondiamo anche la questione la musica per sua definizione per esistere ha bisogno di qualcuno che la suoni e possibilmente di qualcuno che la ascolti cioè non è un quadro che messo lì è lì la musica se non viene ogni volta eseguita non esiste è una serie di strani scarabocchi su un foglio per cui nella in quella che è la ritualità in quello che che fa parte poi delle nostre consuetudini sociali delle abitudini e tutto di quello che è il nostro rapporto con un concerto con una rappresentazione dell'opera ci sta che venga assolutamente eseguita come l'ha pensata l'autore che l'ha pensata per quella configurazione ha pensata per quella situazione perché Mozart non pensava a incidere su CD le nozze di Figaro perché i CD non esistevano banalmente però ora vi dico una cosa che so bene che qualcuno non condividerà però io vi dico che se dovessi vedere un nozze di Figaro in teatro va fatto così però se su disco o come esperimento mi facessero una versione e ne hanno fatte dei nozze di Figaro modernizzata a me non disturberebbe vi dirò di più io nell'improbabile ipotesi che fra 300 anni posto che saremo ancora tutti che si sarà ancora genere umano ma nella improbabili posto che fa 300 anni la gente dovesse ascoltare qualcosa di mio non solo non dispiacerebbe affatto che la mia musica venisse eseguita con strumenti che oggi non ci sono perché fa 300 anni ci staranno ma questa cosa perpetuerebbe il mio ricordo perpetuerebbe il lavoro che ho fatto perché è giusto che il teatro deve essere vivo altrimenti è un museo il teatro deve essere vivo deve deve fare deve però non c'è niente di male nel riproporre di per sé un'attualizzazione di un qualcosa di classico con strumenti diversi con cantanti diversi con quello che volete suonerebbe strano se questa cosa accadesse la scala che è il tempio della tradizione o dovrebbe essere il tempio della tradizione ma nel momento in cui uno dovesse fare un'attualizzazione di un'opera vabbè oggi ci dico su cd non si usano più neanche i cd ma insomma su un supporto per ascolto e non destinato all'uso nel quale nel quale il suo autore l'aveva concepito cioè il palcoscenico non ci starà niente di male vi faccio un altro esempio su un altro un altro un altro campo l'urro di Munch che abbiamo visto in 1500 versioni o la gioconda che l'abbiamo vista con i baffi con i capelli in piedi io non trovo le mille versioni che sono state fatte della gioconda dell'urro di Munch oltraggiose penso in che contesto sono fatte se sono fatte per uno scherzo per una pubblicità per come dire per un meme o per qualcosa di divulgativo è un conto altra cosa e se io vado alla gioconda e l'ouvre che cosa non posso non posso andare a gioconda e l'ouvre e fargli i baffoni e mettere sugli occhiali quella cosa non la posso fare ovviamente ma nel momento in cui io trasmuto e trasmetto il messaggio che c'è dietro a un quadro di bellezza di con un qualcosa di moderno la cosa non è male cioè non è sbagliata certo qualcuno dice qualcuno potrebbe dire sarebbe una volgarizzazione sarebbe un mancato rispetto per l'autore io non lo so ripeto quello che non si può fare è mettere mano all'originale toccare l'originale ma perché nel momento in cui faccio comunicare mondi lontani la cosa di per sé dovrebbe essere un'operazione negativa secondo me non è negativa poi ripeto uno la cosa la può trovare banale la può trovare anche ultraggiosa entro certi limiti ma ormai abbiamo visto tutto anche su questo non siamo più negli anni 60 alla contestazione in cui qualunque cosa nuova o non nuova era vista come una cosa una novità assoluta ormai le hanno fatte tutte insomma quindi non credo che sia niente che ci possa sconvolgere quello che ci interessa sapere è se questa funzione tra moderno e classico ha una sua funzione nel mondo di oggi dopodiché Leonardo è contento che gli fanno i baffi alla gioconda non so bisogna chiederglielo se qualcuno ha il suo numero di telefono o la sua mail lo contattiamo Lorenzo basta mille messaggi molto giusti ecco per esempio però qui c'è una cosa giusta se ci mettersimi ci imbassino posto di YouTube in verde sarebbe meglio anche perché in un senso certo molto giusto Lorenzo oggi è in grandissima forma verissimo quello che normalmente si suona col basso tuba nell'opera di verde dovrebbe essere un cimbasso che è altro strumento un sarusofono che è un altro strumento un oficleide che è un altro strumento e proprio l'oficleide però lo faccio col basso tuba anche quella è una modernizzazione però è una modernizzazione che essendo entrata nel nel così nelle nostre abitudini alla fine ci va bene quanti di voi contrarie la modernizzazione andranno martedì in scala e diranno ah qual è un basso tuba ci voleva un oficleide io credo nessuno perché non lo farà nessuno per quello che abbiamo detto all'inizio cioè su quanto noi ci abituiamo e quando riteniamo quando noi ci abituiamo su una certa scala di valori anche artistici attenzione e poi riteniamo che quella scala di valori corrisponde al giusto ciò che è giusto con la G maiuscola e ciò che non è conforme a quella scala di valori che però ci siamo abbiamo deciso noi di accettare anzi magari ce l'hanno pure imposta e ce la siamo fatti andare bene allora a quel punto la cosa diventa contestabile per cui vi invito veramente a riflettere finiamo cosa dice Roberto innovazione commissione fra classico e moderno possono essere possibili a condizione che non venga completamente stravolto lo spirito e la composizione allora Roberto come sapete è un po' il mio alter ego nel senso che lui partecipa a tutte le nostre le nostre live e insomma è spesso con commenti di grande di grande argutezza e molto divisibili poi io in particolare insomma li condivido particolarmente su questa cosa in particolare Roberto non è che non sono d'accordo su ciò che ha scritto Roberto è che dovremmo fare un video apposto su cosa significa stravolgere lo spirito della composizione su che cosa significa e lo farò quando parlerò appunto della filologia rispettare le intenzioni dell'autore è molto complesso per cui su questa cosa qui a caro Roberto metto uno stand by è una questione sicuramente da approfondire qui andiamo a Francesco magari ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di introdurre nuovi strumenti in teatro prima di Morricone nessuno aveva mai pensato anche tre lettiche in West e poi ne hanno fatto anche altri ne hanno fatto tutti ne hanno fatto altri sì è vero cioè la differenza la differenza caro Francesco non è tanto se io Vito Lorè domani mi commissiono un'opera un'opera ci metto dentro la chitarra elettrica il punto è se io Vito Lorè direttore sono autorizzato a mettere la chitarra elettrica in un'opera di Verde la quale abbiamo già messo il basso tuo e mettiamoci anche la chitarra elettrica perché no allora allora non ti curare di loro grazie a proposito di quello che dicevo secondo adorava Handel adesso ascolta solo l'ana del re ma meno male che ascolta l'ana del re ma viva dio insomma ecco in più considerate una cosa che quando io da piccolo ascoltavo tonnellate di musica classica lirica proprio sono cresciuto sono cresciuto consumando dischi perché mia mamma in primis consumava dischi quindi un po' le ascoltavo perché le ascoltava lei un po' le ascoltavo perché avevo piaciuto di ascoltarli io quindi veramente tantissimi però poi attenzione che per un ragazzo per un bambino dire mi piace Beethoven sparo è perché magari ha ascoltato un pezzo magari per Elisa o magari la nonna o magari un qualcosa di particolarmente famoso o particolarmente coinvolgente e quindi poi resti legato a quella roba lì io sto facendo iniziato stamattina un esperimento un esperimento un esperimento una cosa che voglio fare ho deciso di riascoltarmi da zero tutta la produzione di Beethoven tutta tutte 127 composizioni cosa che richiedrà ovviamente dei mesi evidentemente perché voglio rifarmi alla mia età ormai spero del giudizio e matura mi voglio rifare un'idea di Beethoven non delle sinfonie che conosco molto bene non insomma delle sonate per pieno forte ma soprattutto della musica cameristica gli ultimi quartetti per archi e tutta la produzione meno famosa diciamo così e quindi comunque va bene la del Ray va benissimo l'intelligenza artificiale al mio avvio non potrà mai spettare il genere del talento del musicista umano sì allora ad oggi anche qui faccio un altro piccolo spoiler sul video dell'intelligenza artificiale applicata alla musica io ho già ascoltato delle cose impressionanti dell'intelligenza artificiale in una manciata di secondi però da questo a dire ho ascoltato le cose geniali no perché al momento la cosa non è possibile perché l'intelligenza artificiale che cosa fa fondamentalmente? fa non tanto di diverso da quello che fa il motore di ricerca e tu vai su google e cerchi voglio fare Mario Smozart lui ti mette fuori tutte le informazioni che ha trovato su Mario Smozart l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa semplicemente le combina per cui ti porta in un unico contenitore tutti i contenuti che hai riuscito a trovare in quel su quell'argomento però io dico intelligenza artificiale fammi un pezzo in stile chiunque vogliate voi lui prenderà la musica di quella persona e farà una come dire una una media ok per cui raramente assisteremo a dei capolavori però assisteremo a delle cose che stanno molto molto in piedi in questo tratteremo uh da Atene buongiorno Alexandra da Atene che bello sì hanno completato la decima di Beethoven l'avevo sentito l'avevo sentito dire è stata eseguita ad Hamburgo ma credo che si trovi anche su YouTube magari un giorno ci faccio anche un video perché forse voi sapete che della decima di Beethoven c'è di Beethoven scritto la Beethoven se non sbaglio non so se un abbozzo o il primo movimento o un movimento adesso non ricordo se fosse il primo o se fosse un movimento lento non me lo ricordo però sono sicuro che Beethoven ha scritto un movimento e poi è venuta la signora con la falce e gli ha fatto interrompere mi informerò mi informerò vorrei proprio farci un video su questa cosa qui che è molto molto interessante magari proprio vicino al o in qualche modo connesso col video che farò sull'intelligenza artificiale andiamo un po' innanzitutto per chi non lo sa questo qua che scrive è un musicologo è uno che sa quello che scrive più la musica è antica più si presterebbe un nuovo arrangiamento perché l'organico orchestra non era fisso giustissimo perché in realtà noi abbiamo un'idea della strumentazione e tra l'altro ho fatto un video che uscirà tra qualche settimana proprio su strumentazione concertazione e orchestrazione è una differenza fra i tre termini la strumentazione è un concetto relativamente giovane cioè nel senso se consideriamo che la musica c'è da quando come abbiamo detto uno sulle caverne batteva con gli ossi contro un tronco cavo c'è quello inizio della musica se consideriamo la parte bizantina se consideriamo il gregoriano insomma c'è tanta musica antica e anche prima di antica che è stata scritta nel momento in cui si è cominciata a scriverla perché prima si eseguiva ma non si scriveva o si scriveva con una notazione diversa eccetera eccetera in realtà è vero in realtà è vero perché se io andassi a prendere a parte che ci sono anche delle composizioni di Bach tipo l'arte della fuga dove ci sono tutte le parti ma c'è scritto per quale strumento quindi qualunque strumento che sia in grado di eseguire quella parte può eseguirla se poi andiamo sulla musica vocale sulla musica corale allora figuriamoci che differenza ci poteva essere tra un coro di oggi e un coro di 600 anni fa o giù di lì insomma vediamo Giovanni l'intelligenza artificiale essendo anche essa progettata da menti umane e traendo le informazioni da compositori esistenti da composizioni esistenti dai grandi compositori potrebbe riuscirci cioè a fare qualcosa di geniale Giovanni credo di di aver capito allora ad oggi nessuno nessuno può sapere dove andiamo perché dal punto di vista dell'intelligenza artificiale perché rischio di fare un video tra due settimane e lo farò e fra due mesi è un video che dovrò togliere perché è talmente come dire sorpassato perché in realtà si sta andando con una velocità pazzesca cioè non è una cosa che ci sarà in un futuro prossimo è una cosa che c'è già e anche da tempo che si sta utilizzando spero che tu ti sbagli Giovanni spero veramente che tu ti sbagli altrimenti siamo veramente tutti disoccupati eccolo qua i famosi baffi alla gioconda è importante come ho detto l'originale gioconda che c'è che c'è al Louvre questo non è ovviamente in alcun modo fattibile sì le cover sì ecco allora diciamo che se io domani dovessi fare rigoletto completamente ripensato completamente ristrumentato eccetera eccetera sì evidentemente non sarebbe più quel rigoletto sarebbe una cover del rigoletto e in realtà sono convinto che non ci sarebbe assolutamente niente di male assolutamente buongiorno giusi i baffi con la gioconda e ora fa parte di una collezione privata in New York non posso pensare quanto l'avranno pagata non so quanto l'hanno pagata però ricordatevi che in in arti in generale arrivare per primi fa tanto cioè anche se io non comprerei mai un quadro di fontana quelli per intenderci con i tagli non lo comprerei mai perché perché non spenderei mai quello che non quello che vale quello che costa ma se me lo regalassero confesso che me lo metterei in casa senza nessun tipo di problema ma attenzione al discorso è ma questa cosa la sapevo fare anche io un taglio nella tela ero capace anche io di farlo perché la differenza fondamentale tra lui e voi che lo dite è che lui l'ha fatta e arrivare primi in arte è importante è quello che fa la differenza è chiaro che se oggi prendo una tela le faccio su dei tagli dico ragazzi ho inventato i tagli sulle tele mi ridono in faccia e mi rompono il quadro in testa e avrebbero anche ragione farlo per primo non si tratta di essere talebani quando non si accettano degli eccessi della modernizzazione vorrei vedere quanti accetterebbero sentire Dark Side of the Moon suonato in una casta d'archi sicuramente di più sarebbero più di quelli più fan dei Pink Floyd che accetterebbero Dark Side of the Moon fatto con una casta d'archi che quante persone appassionate di Mozart che ascolterebbero Mozart fatto con le chitarie elettriche di questo sono sono sicuro avanti sono tantissimi io ovviamente ma cerco di andare veloce vediamo cosa c'è sempre Lorenzo che oggi è in forma dipende se un'opera è così universale da non perdere valore se fatta come una cover una sonata di Scarlatti è meravigliosa anche quando fatta col piano pedale con la chitarra o che so io sì allora qui il discorso è un filo più complesso e visto che siamo in chiusura cerco di riassumerlo in pochi minuti nella riproposizione no no non sei verboso assolutamente no no ci mancherebbe hai scritto tutte cose assolutamente condivisibili e comunque qualunque qualunque cosa condivisibile o meno che come dire che ci genera uno scambio è sempre positiva a prescindere anche se non si è d'accordo dicevo qui c'è un punto fondamentale e poi andiamo in chiusura il punto non è semplicemente se io suono la sonata di Scarlatti col pianoforte che non è prevista o con un sintetizzatore o con un clavicembalo come dovrebbe essere o con un clavicordo o con quello che volete il punto è se io modifico o no le note cioè un conto è prendo quello che ha scritto Domenico Scarlatti o Alessandro o chi per lui e lo eseguo senza cambiare una nota con uno strumento diverso da quello che ha pensato l'autore e questa è una cosa questa è una cover già è discutibile se questa sia una cover non lo so altra cosa è se io prendo una parte di una sonata di Scarlatti e la riarrangio la ripenso e qui non è su un discorso legato a che strumenti utilizzo ma al fatto se tengo fede alle notte che ha scritto il 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 compositore oppure detto in altra maniera per cercare di essere più chiaro se io prendo l'inno la gioia di Beethoven che conosciamo tutti ok quindi solo con la parte lì non sto facendo e la rifaccio mettiamo sotto la una precauzione della discoteca ne faccio un pezzo di disco music non sto facendo non sto ripensando la nona di Beethoven mi ha preso solo un piccolo frammento per cui attenzione che questo che un conto è il rispetto completo integrale di quello che c'è è semplicemente eseguito con un altro strumento e un conto è prendere un pezzo e ripensarlo perché poi gli arrangiamenti se avete visto il mio video sull'arrangiamento e le orchestrazioni lo sapete bene molte volte riarrangiare vuol dire completamente cambiare lo spirito di quello che aveva pensato anzi 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 lo riarrangiare dovrebbe presupporre perché se io faccio un arrangiamento di un pezzo in maniera identica e quello hanno già fatto 1500 altri arrangiatori che serve il mio lavoro? allora chiudo con Francesco quanto è straziante dovresti approcciare con chi di musica evidentemente capisce poco o nulla nei commenti nella vita e purtroppo anche nei ambienti musicali io mi sento di questo no assolutamente tu non sei ciao Mirko grande Mirko no perché è straziante allora non c'è niente di straziante quando quando si 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 vuole trovare un qualcosa di comune da condividere e con cui comunicare la cosa straziante è quando ti trovi a parlare con un musicista arroccato sulle sue posizioni lui sulle sue e tu sulle tue tanto per parlare chiaro e non se ne esce quello è molto più straziante è molto più straziante quello caro Francesco per cui ma direi che anche oggi mamma mia ok dai un'ora un'ora e zero tre direi che vi lascio vi lascio a terminare la domenica la domenica in maniera gioiosa fatevi uno spritz fatevi qualcosa di bello passate tempo con la vostra famiglia per cui ricapitolando i prossimi i prossimi appuntamenti quindi martedì non ci sarà il video martedì sera ci sarà però mercoledì mattina recensione di Cavalieri e Pagliacci venerdì Trame raccontate male Andrea Chene e direi che per questa settimana poi c'è la live con gli abbonati ma quella è più avanti insomma per cui grazie a tutti della cospicua come sempre partecipazione scrivete nei commenti cercherò quello che avete piacere se non siamo ancora riusciti a sentire tutti ho mai diretto l'ottavo di Schubert sì l'ho diretta naturalmente chiudo 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 ragazzi chiudo veramente perché sono anche sono anche impegnato ciao Davide grande Davide buon pomeriggio per cui appuntamento a mercoledì mattina e poi a venerdì per la nuova trama raccontate male raccontata raccontata mala ecco in chiusura di video mi si mi si accartoccia la lingua tra un come al solito tra una settimana circa scriverò farò il solito sondaggio per vedere quando volete fare la nola puntata di pensi e libertà grazie a tutti divertitevi e buone cose